E' terminato con grande successo il pellegrinaggio del gruppo Assisano in Terra Santa. Martedì 13 settembre il gruppo ha visitato la città di Nazareth, mercoledì i fedeli hanno raggiunto il lago di Galilea, Cafarnao, Tabga, Magdala e il Monte delle Beatitudini, e a Nazareth. Giovedì 15 è stata la volta di Tabor, luogo della trasfigurazione di Gesù e della Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, con l'annesso museo archeologico, la chiesa di San Giuseppe, la Fontana della Vergine e la Sinagoga. Venerdì i pellegrini si sono recati sul fiume Giordano, luogo del Battesimo di Gesù. Proprio lungo il fiume Giordano i partecipanti hanno rinnovato le promesse battesimali. Dopo aver raggiunto Gerico hanno fatto tappa al Monastero delle Tentazioni. Nel pomeriggio i fedeli si sono diretti a Betlemme, sabato invece hanno toccato Erodion, Betania e la tomba di San Lazzaro. Domenica il gruppo ha raggiunto la spianata delle moschee, il quartiere ebraico e il convento di San Francesco ad Cenacurum. Lunedì i fedeli sono saliti al Monte degli Ulivi per poi scendere e visitare alcuni santuari. Nel pomeriggio hanno visitato la chiesa di Sant'Anna, il convento della flagellazione, la chiesa del Santo Sepolcro e il convento della flagellazione.